quella che avete appena sentito era un'esplosione subacquea che ho registrato durante una pescata ma per capire bene i fatti bisogna tornare all'inizio di quell'immersione avevo infatti deciso di pescare dietro una diga artificiale dove non ero mai stato prima non conoscevo il fondale non sapevo quanto era alto non sapevo cosa avrei trovato e quindi un pochino avevo paura ma soprattutto sapevo che avrei commesso un sacco di errori i pesci infatti sono abbastanza abitudinari e di solito vanno sempre a mangiare nelle stesse buchette e nei stessi infratti e in prossimità di questi bisogna muoversi con particolare attenzione attuando delle tattiche particolari ad esempio non sapevo che alla mia sinistra ci fosse una buca un po più ampia dove un'orata stava mangiando orata che scappa alla velocità della luce e ve la faccio rivedere capisco che oggi bisogna pescare con estrema attenzione muovendosi molto lentamente per non spaventare i pesci che stanno mangiando e quello orata non era un pesce piccolo dopo neanche un centinaio di metri si avvicina un pesce che non avrei mai immaginato di trovare qui un tombarello che arriva a 200 km orari che ovviamente sbaglio clamorosamente ho sbagliato a sparare perché avrei dovuto aspettare qualche secondo in più ed inoltre ho anche mirato troppo basso come vedete in questa clip ricarico il fucile con la consapevolezza che in questo posto potrei davvero trovare di tutto e allora procedo con molta più cautela ed è proprio in questo momento che davanti a me si palesa un banco gigantesco di cefali e sono tutti pesci che vanno da uno a due chili per paura che i cefali possano scappare decido di spararli dalla superficie errore fatale infatti lo sbaglio clamorosamente pesci continuano a girare intorno a me ricarico il fucile più in fretta che posso operazione non semplice quando si ha la fretta di fare qualcosa e infatti il cordino si intreccia da tutte le parti dopo un paio di minuti di sofferenza riesco a completare l'operazione però i cefali sono scomparsi a questo punto non mi rimane che un'unica alternativa quella di immergermi e aspettare che vengano incuriositi dalla mia presenza mentre scendo continuo a ripetermi non sparare a casaccio nel banco ma punta un pesce infatti l'errore principale in questo caso è proprio quello di sparare a caso senza puntare un singolo pesce dopo un minuto i pesci finalmente compaiono e stavolta punto a un singolo pesce non sbaglio e la cosa interessante è che gli altri cefali non sono del tutto spaventati ma rimangono vicini al compagno ferito un po mi dispiace dico la verità questo pesce così come tutti quelli che pesco verrà trattato col massimo rispetto e lo uccido subito per non farlo soffrire per una decina di minuti non vedo più nulla ma qui il fondale è ancora più alto andando piano piano mi accorgo che un grosso cefalo passa alla mia destra però cerco in tutti i modi di farlo incuriosire ma non ci riesco con l'esperienza si riesce già a capire se un pesce si fermerà o meno e questo se ne stava andando per i fatti suoi sarebbe stato controproducente espormi per provare a farlo tornare indietro a questo punto continua con l'esplorazione ci sono un sacco di castagnone ma sembrano abbastanza tranquille segno che non ci sono grossi predatori quando si pesca in mezzo a grossi massi artificiali può veramente capitare di tutto dalla cernia nascosta dentro i massi all'orata di tre chili che sta mangiando le cozze in realtà non lo possiamo sapere e bisogna esplorare piano piano tutti gli anfratti non dimenticandoci di affacciarsi anche sulla sabbia perché potrebbe capitare che qualche grosso pesce che non ci ha sentiti proprio perché siamo mascherati dagli scogli stia lì tranquillo è proprio durante queste esplorazioni che purtroppo avviene il fattaccio e sì quella che avete sentito è stata proprio un'esplosione subacquea ma riascoltamola bene mi guardo intorno spaventato per capire cosa sia successo perché non riesco a capire subito cosa è accaduto in realtà l'esplosione che voi avete solo sentito io l'ho anche percepita fisicamente con il cambiamento di pressione decido di tornare indietro non ha più senso continuare soprattutto perché non ho più la mente sgombra e rischierei di fare solo delle grosse cavolate e me ne accorgo perché dai due minuti che rimanevo in apnea ora riesco a rimanere solo dai 40 ai 50 secondi sono davvero troppo agitato ma cosa è stata quell'esplosione mentre torno indietro e cerco di pescare mi faccio mille domande probabilmente tutti quei cefali hanno portato qualche bracconiere a lanciare qualche bomba per prendere nel più possibile ed è questa l'unica spiegazione che mi do anche perché le trevellazioni petrolifere sono veramente lontane da dove siamo noi parliamo di centinaia di chilometri pochi metri più avanti ritrovo infatti un altro banco enorme di cefali che si avvicinano tranquilli stavolta non ci riesco a sparare sono troppo belli da vedere quello che ho preso è sufficiente per me per mia moglie per un paio di ricette e non ho bisogno di ammazzarne un altro inutilmente però nonostante tutto sono ancora agitato con l'esplosione mi ha scosso e me ne accorgo perché qui commetto un errore che non avrei mai fatto da lucido l'errore non è stato quello di mirare male il pesce pensé di sparare una ricciola davvero troppo piccola questa non pesava neanche un chilo capisco subito della cavolata che ho fatto e ringrazio il cielo di aver sbagliato il pesce mi rendo conto che è l'ora di andarsene a casa non si può pescare in questo stato mentale e a voi è mai capitato qualcosa del genere avete mai sentito un'esplosione così sott'acqua se vi è capitato o se avete capito di cosa si trattava scrivetelo anche nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video